Ecco, è interessante vedere come anche il Partito Socialista, che ripeto nel passato ha avuto fasti notevoli, tutti ricorderanno Bettino Craxel, quei suoi mille giorni di governo, sta tornando in qualche modo in auge. Luca ha parlato di turismo, voi sapete io la penso in un certo modo e sono convinto che il sindaco di Lagusa in questo momento è un po' obnubilato da tutte queste informazioni, per esempio ci sono quelle che gli arrivano dal Gall, che sono particolarmente, non dico farlocche perché sono esatte, però siccome fanno vedere il sentore sul clic, cioè tu non mi dici quanta gente ha veramente acquistato il prodotto, in questo caso l'albergo, ma mi dici quanta gente ha cliccato. Io la sera mi posso mettere sul mio computer e mi cerco come andare a Samoa o per esempio come andare a Sanremo, ma poi non ci vado. E l'altra cosa peggiore è che con questo sito che il sindaco vuole creare vorrebbe fare concorrenza a Booking o a Expedia o ad altri, perché lui sta creando un sito dove ci si mettono le strutture alberghiere. Bello, bellissimo, non c'è dubbio, speriamo gratis che non vengano pagati. Però guardate oggi la gente non è che va sul sito di Ragusa e cerca gli alberghi, va sempre su queste grandi piattaforme perché là ci sono le valutazioni e sono vere. Cioè la gente quando cerca un albergo su Booking, a parte il prezzo che è sempre molto interessante, sa che la valutazione che viene posta, che viene scritta è quella reale, perché ci sono le segnalazioni, perché ci sono i consensi e cose del genere. Invece quando tu vai sul sito di una città, che sai se poi l'albergo Pinko Pallino è veramente buono o no, a parte il prezzo. Quindi è una battaglia inutile che solo persone che hanno una visione contorta del loro interesse, del loro interesse, perché c'è qualcuno che fa parte di questo cerchio del turismo, c'è anche un osservatorio che non è neanche legittimo, io vorrei andare anche a vedere chi potrebbe stare dentro e chi non potrebbe starci, però a questo punto ci facciamo prendere in giro. Invece sarebbe da trovare sempre più spazio su quelli che sono i grandi canali internazionali. Ma parliamo di turismo e di gusto, perché domani si apre una grande manifestazione a Chiaramontegulfi e si parla di un prodotto che per noi è una novità assoluta. Allora ci colleghiamo con Chiaramontegulfi.